Ciao ragazzi, benvenuti a questo gravissimo video di Cesar, per oggi io andrò a fare server privati, partite con voi, se toccherò il colore viola dovrò sciopare, ok? Ok, va bene, allora, speriamo di non no space race, non block dash, c'è block dash, space race, c'è il viola, e anche qua c'è il viola, e anche qua c'è il viola, devo cadere qua sotto, va bene, adesso che già posso cadere, vado di qua, io, perché se lo vorrei cadere, vado di qua, ecco questo, ok ragazzi qua posso anche cadere tranquillamente, sono caduto, sì, sono caduto, sì, sono caduto, guarda, questo è qualcosa che si qualifica, questo è qualcosa che si, che è lì, 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 è lì, che è lì. Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Grazie a tutti